torniamo a parlare del samsung a 70 perché la versione non brand in data 24 ottobre per il nostro paese finalmente si aggiorna questo aggiornamento che è arrivato in la maggior parte dei paesi europei con largo anticipo e che nel nostro paese è arrivato prima per le versioni brandizzate ha portato diverse novità innanzitutto le patch di sicurezza sono state aggiornate da luglio a settembre 2019 le prossime patch di sicurezza si speria che verranno aggiornate per dicembre quelle di ottobre poi è stata implementata la funzionalità dell'auricolare type c quindi utilizzando l'auricolare type c attaccato direttamente alla porta type c del dispositivo in questo caso verranno riconosciute io non ho una cuffia type c e quindi non ho potuto vedere se questa funzionalità è stata aggiunta effettivamente o no è stata migliorata la stabilità di tutte quante le funzioni ed è stato migliorato anche le prestazioni dello schermo tattile ho notato una maggiore fluidità del sistema e anche in particolare minori rallentamenti che in alcuni casi in precedenza avevo notato ma due sono diciamo secondo me i punti principali dell'aggiornamento a parte le patch di sicurezza i due punti principali riguardano la fotocamera e il riconoscimento tramite l'impronta digitale per quanto riguarda la fotocamera in effetti ho notato qualche miglioramento nelle fotografie scattate di giorno in piena luce sicuramente c'è stato qualche miglioramento soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della fotocamera posteriore mentre per quanto riguarda il riconoscimento dell'impronta l'aggiornamento lo ha migliorato notevolmente mentre in passato dopo alcuni giorni in cui avevamo registrato le impronte in qualche caso durante l'arco della giornata il dispositivo comunque tendennava e occorrevano due tre volte prima di riconoscere l'impronta in questo caso il riconoscimento è praticamente istantaneo funziona sempre alla prima botta non è rapido come magari in altri dispositivi però viene riconosciuta l'impronta sempre e subito come possiamo notare infatti una volta che in pratica centriamo bene il segno dell'impronta questo viene riconosciuto e in particolare lo sblocco avviene praticamente è immediato in passato questa cosa non funzionava sempre costantemente 24 ore su 24 invece in questo caso notato che se riusciamo a centrare l'impronta bene il riconoscimento è praticamente istantaneo e questa è sicuramente la più grande novità dell'aggiornamento che rende il dispositivo ancora più appetibile visto anche il calo di prezzo infatti lo si può trovare anche a poco più di 300 euro oltre a questo come stavo dicendo prima è stata migliorata anche in particolare la qualità delle fotocamere le immagini scattate con la fotocamera posteriore sono infatti migliorate ed è stata migliorata anche la stabilità della fotocamera in particolare io ho effettuato una serie di scatti sia con la fotocamera stock che con la google camera la versione di arnova uscita se non sbaglio a settembre per vedere se in effetti rispetto alla google camera la fotocamera stock ha ricevuto qualche aggiornamento sostanziale sulla destra la foto panoramica è stata scattata con la camera stock mentre sulla sinistra la stessa fotografia è stata scattata invece con la google camera in particolare nel caso della camera stock c'è l'ottimizzazione della scena attiva non è attivo il flash non è attivo ovviamente il grandangolare nessun filtro bellezza l'hdr non è attivo poiché la foto è scattata scattata alla massima risoluzione che è di 32 megapixel nel caso della camera della google camera non c'è nessuna possibilità di attivare l'ottimizzazione della scena anche in questo caso nessun flash grandangolare nessun filtro e nessun hdr attivo in maniera da renderla quanto più possibile simile a quella scattata con la camera stock con la differenza che nella camera nella fotocamera della google camera la stessa foto viene scattata ad un massimo di 8 megapixel come è possibile notare le due foto sono entrampe scattate ottimamente si nota qualche dettaglio sul telefono in più per quanto riguarda la google camera e in particolare mi piace di più la come è stato scattato il cielo però se effettuiamo un ingrandimento sostanziale delle due foto è possibile notare come ovviamente il rumore nel caso della fotocamera della foto scattata con la google camera sia notevolmente maggiore rispetto a quella scattata con la camera stock ovviamente non solo i dettagli catturati sono maggiori essendo una fotografia da 32 megapixel e una da 8 megapixel ma noto anche come il rumore sia maggiore nella camera stock rispetto a quella scattata con la fotocamera normale passiamo poi ad una macro anche in questo caso abbiamo sulla destra la foto scattata con la camera stock senza ottimizzazione della scena senza flash né filtro bellezza e né hdr è stata scattata a 32 megapixel mentre sulla sinistra la stessa foto è stata scattata con la google camera o meglio sulla destra abbiamo la foto scattata con la camera stock con l'ottimizzazione della scena attiva senza flash né effetti grande angolare nessun filtro nessuna hdr scattata a 32 megapixel quindi una volta che viene scattata a 32 megapixel con la camera stock non è possibile attivare l'hdr mentre invece sulla sinistra abbiamo la stessa foto scattata con la google camera anche in questo caso nessuna ottimizzazione della scena né flash né filtri attivi e la foto è stata scattata a 8 megapixel effettuando un ingrandimento delle stesse foto vediamo che i colori sono quasi gli stessi più luminosa quella scattata con la camera stock rispetto alla google camera mi piace in questo caso leggermente di più la macro scattata con la camera stock a parte che è leggermente più definita ma in particolare lo scatto lo preferisco lo preferisco di più ovviamente parliamo di una foto che è più grande perché abbiamo 4 megapixel contro in particolare un megapixel della foto scattata con la google camera poi passiamo ad una foto panoramica scattata all'aperto in verticale con telefono in verticale in questo caso è stata sulla destra con la camera stock abbiamo ottimizzazione della scena attiva nessun flash nessun grandangolo nessun filtro l'hdr è attivo e la foto è stata scattata avendo l'hdr attivo non a 32 megapixel ma la risoluzione più alta possibile che era se non sbaglio a 16 megapixel sulla sinistra abbiamo la stessa foto scattata con la google camera senza ottimizzazione della scena senza flash senza filtri attivi con hdr attivo scattata a 8 megapixel in questo caso mi piace di più come si presentano i colori quindi la gamma cromatica sulla foto scattata con la google camera rispetto alla camera stock mi sembra leggermente più spento l'hdr nella camera stock rispetto alla google camera infatti i colori del fogliame delle piante risultano più verdi con la camera stock con la camera con la google camera rispetto alla camera stock mentre per quanto riguarda il livello dei dettagli è più o meno lo stesso però si è comportato in questo caso meglio la foto scattata con la google camera anche se poi aumentando di un po' lo zoom si nota come il rumore digitale anche in questo caso è maggiore nella foto scattata con la google camera rispetto alla camera stock sono entrambe delle foto ottime anche il cieli vengono rappresentati bene su entrambe le foto però per quanto riguarda i colori preferisco quelli più enfatizzati con la google camera l'hdr mi sembra che abbia funzionato meglio in questo caso poi abbiamo una foto scattata con modalità notte su entrambi i dispositivi cioè meglio su la stessa foto scattata con la google camera con la camera stock sulla destra e con la google camera sulla sinistra pratica per quanto riguarda la foto scattata con la camera stock è stata scattata senza ottimizzazione della scena senza flash senza grande angolare nessun filtro nessun hdr perché non è possibile con la foto notturna utilizzare l'hdr ed è stata scattata ovviamente a 16 megapixel questa è la luce che è stata catturata che è molto bassa quindi non noto miglioramenti per quanto riguarda le foto in notturne rispetto al vecchio aggiornamento mentre questa è la stessa foto scattata con la google camera google camera che ovviamente utilizza ha la possibilità di attivare anche l'hdr per quanto riguarda le foto notturne anche in questo caso nessuna ottimizzazione della scena nessun flash nessun effetto grande angolare nessun filtro ma la quantità di luce catturata è maggiore questa differenza ovviamente legata all'algoritmo utilizzato dalla google camera che è molto più efficiente rispetto a quello che viene utilizzato dal software di samsung nonostante comunque la foto in notturna scattata con la google camera poi sia in termini di risoluzione ancora più piccola rispetto a quella della camera stock inoltre non solo è più luminosa ma anche il rumore digitale maggiore per quanto riguarda la camera stock rispetto alla google camera quindi per le foto in notturne preferisco ancora le foto scattate con la google camera rispetto alla camera stock per quanto riguarda invece questa foto è stata scattata in notturna con flash attivo camera stock google camera camera stock con ottimizzazione della scena flash automatico perché è stata scattata a 32 megapixel quindi a 32 megapixel possiamo solamente avere o non flash o flash automatica nessun filtro nessun effetto grande angolare non c'è la hdr perché è stata scattata 32 megapixel però è stata ben illuminata la scena e mentre per quanto riguarda la camera la google camera anche in questo caso nessuna ottimizzazione della scena il flash è automatico nessun filtro grande angolare nessun hdr e la foto è stata scattata da 8 megapixel mi piace di più però la foto ottenuta con flash attivo molto più luminosa per quanto riguarda la camera stock inoltre il rumore digitale è notevole per quanto riguarda la google camera rispetto a quella effettuata con la camera stock in effetti ho notato un miglioramento rispetto alle foto scattate con gli aggiornamenti precedenti con l'utilizzo del flash ovviamente per la camera stock che in questo caso nettamente migliore rispetto a quella ottenuta con la google camera questo invece è un effetto sfocato effettuato con la camera stock e con la google camera camera stock ovviamente nessuna ottimizzazione della scena attiva non flash hdr attivo la foto è stata scattata quindi a 16 megapixel non nessun filtro nessun effetto grande angolare massima sfocatura google camera nessuna ottimizzazione della scena non c'è il flash ma a differenza della sfocatura con la google con la camera stock nella google camera nell'effetto sfocato è possibile anche attivare il flash è stata ovviamente scattata a 8 megapixel in questo caso le foto sono entrambe buone però l'effetto sfocato è maggiore nella foto scattata con la camera stock rispetto alla google camera anche se invece più luminosa quella scattata con la google camera effettuando un ingrandimento si vede anche come i dettagli sono più elevati più più dettagliata la foto scattata con la camera stock rispetto alla google camera anche se poi mi sembra che ci sia un maggior rumore digitale con la camera stock rispetto al google camera si legge meglio nella foto della google camera però come vediamo l'effetto sfocatura è migliore avendo messo come soggetto a fuoco la bottiglia mi sembra che abbia sfocato meglio la camera stock rispetto alla google camera come vediamo la google camera anche se in questo caso è diciamo un effetto sfocato non ottenuto bene ma è una cosa software quindi ha lavorato meglio il software della camera stock quindi gli effetti sfocati sono veramente migliori rispetto a quelli della google camera poi abbiamo una foto scattata in un ambiente con poca luce scattata con la fotocamera anteriore camera stock google camera in particolare nella camera stock non c'è l'ottimizzazione della scena che manca per la camera anteriore se utilizziamo la foto alla massima risoluzione quindi 32 megapixel nessun filtro hdr e nessun effetto grande angolare la stessa foto è stata scattata anche con la google camera nessuna ottimizzazione della scena nessun flash grandangolo filtro hdr ed è stata scattata a 5 megapixel in questo caso non non noto particolari differenze tra le due fotografie tranne per il fatto che ho notato che le foto scattate in condizioni di poca luce con la fotocamera anteriore sono leggermente migliorate per quanto riguarda la camera stock che sembra anche leggermente migliori rispetto a quello ottenuto con la camera con la google camera ma non per i selfie nei selfie noto che la camera la google camera riesce ad avere ancora qualcosa in più rispetto alla camera stock alla camera stock i selfie scattati in condizioni di buona luce sono migliori ma in condizioni di poca luce o di bassa luce preferisco quelli ottenuti con la google camera infine abbiamo due video ottenuti effettuati con il dispositivo disposto in verticale con la camera in particolare per quanto riguarda il video girato con la camera stock nessuna ottimizzazione della scena nessun flash nessun hdr nessun filtro nessun effetto grande angolare stabilizzazione digitale attiva quindi la foto è stata il video è stato registrato in full hd a 30 fps perché con lo stabilizzatore attivo possiamo registrare i video solamente a 30 fps e questi sono i risultati mentre per quanto riguarda il video registrato con la google camera anche in questo caso nessuna ottimizzazione della scena nessun flash nessun hdr nessun filtro è presente la stabilizzazione anche in questo caso il video è stato registrato in full hd a 30 fps per è possibile registrare il video anche ad una risoluzione maggiore quindi anche a 60 fps quindi nel caso del video registrato invece con la google camera questo è in pratica il video in questo caso ho notato però una maggiore stabilizzazione dello stesso video ottenuto con il con la camera stock rispetto alla google camera quindi per quanto riguarda la registrazione dei video e per quanto riguarda l'effetto di stabilizzazione sicuramente migliore i video registrati con la camera stock nell'aggiornamento veniva introdotto anche in particolare una nuova funzionalità che è la funzione della stabilizzazione cosa non vera perché in pratica l'effetto dello stabilizzatore nei video che sarebbe in pratica questo e era già presente nell'aggiornamento precedente e quindi questa nuova funzionalità che è di stabilizzatore ottenuto nella fotocamera posteriore è comunque una funzione che era stata già aggiunta nell'aggiornamento precedente e quindi non c'è nessuna novità riguardante la stabilizzazione per concludere l'aggiornamento mi è piaciuto soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento con l'impronta digitale quindi lo raccomando sicuramente a tutti coloro che avevano difficoltà dopo alcuni giorni a farsi riconoscere tramite il sensore dell'impronta digitale il riconoscimento del viso non è stato intaccato funzionava bene prima funziona anche ora mentre per quanto riguarda la stabilizzazione o meglio il miglioramento a livello di immagini ho notato un miglioramento soprattutto per quanto riguarda le foto scattate in condizioni di buona luce mentre per quanto riguarda le foto scattate con poca luce questi miglioramenti non ci sono stati le foto in notturna preferisco sempre quelle ottenute con la google camera e quindi spero che ci si possa nei nuovi aggiornamenti nei prossimi aggiornamenti migliorare anche qualcosa al livello di fotocamera anteriore che soprattutto in condizione di poca luce tendenne non poco e quindi spero che ci si possa iniziare a fare un'impronta digitale per quanto riguarda le foto scattate con il miglioramento di potocamera